Dopo tante parole Italia Nostra adesso vuole i fatti e lo fa con una raccomandata spedita direttamente a Presidente della Provincia Stefano Marcon e al Consigliere Delegato Giancarlo Iannicelli. Noi vogliamo essere una delle tante associazioni quindi non abbiamo la pretesa di sostituire la politica. La politica certamente deve dare il suo contributo anche perché la provincia, voglio dire, se esiste deve avere anche un bilancio, se ha un bilancio deve avere anche qualche soldo. Se ha qualche soldo per mettere a posto le strade deve essersi anche degli soldi per mettere a posto il verde. Un concetto chiaro e semplice che Scarpa vuole portare nell'incontro chiesto nelle lettere che partirà domani in direzione Sant'Artemio. Il tema deve essere concretizzare ciò che al momento tutti hanno offerto ovvero la disponibilità di intervenire, a gestire scientificamente taglie e potature e non ultimo a finanziare non solo la polizia ma soprattutto il recupero di passarelle ed in genere dei percorsi lungo le sorgive dello Storga. Ringraziamo tutti quelli che si sono resi disponibili dagli amici dello Storga, al gruppo folcloristico, agli alpini e tutto quanto. È vero, noi vogliamo passare dalle parole ai fatti. Bisogna sfruttare gli entusiasmi prima che calino e per questo non si può attendere a lungo. Ecco perché accanto alla lettera ci sono le altre iniziative di Italia Nostra. La prima cosa che noi faremo è un incontro adesso con Trevisin, con il forestale che ha fatto i lavori quella volta. La seconda cosa è quella di gestire questa cosa per mettere a posto un ponte e portare delle persone a ripristinare questo ponte per dare un senso di lavoro a questa cosa. Ecco perché Scarpa si augura di incontrare Marconi e Iannicelli già la settimana prossima, magari per organizzare una vera e propria conferenza tra tutti coloro che si mettono a disposizione per il parco. Il gruppo di lavoro serve a poter fare delle cose operative. Se vedremo che la cosa non va avanti procederemo perché voglio dire alla fine le cose vanno fatte.